Comunque, la voce del popolo, siamo noi ragazzi, è quella che conta, siamo il futuro, vuoi vedere già un presente così? Ci demoralizza. Oggi è 6 novembre 2016, l'ultimo video in vettiva contro il comune fu fatto l'11 maggio 2016, quindi circa 5 mesi fa. Io mi aspetto, da cittadino che sono di Rapallo, che quei cambiamenti che auspicavamo nel video precedente, in qualche modo, se grazie al nostro aiuto o meno, sono stati risanati. Guardate, che abbiamo potuto vedere, qui sotto, mi ricordo che c'era il motorino, ed è ancora lì. Aspetta, ah sì sì, è proprio lì. Ma mi chiedo, ma cosa ci vuole? Ma so che è difficile, so che è sporca la cosa da fare, però la si fa, perché un sindaco fa anche questo, nel senso, anzi non il sindaco. persone che all'igiene sono adibite a fare queste cose. Non mi aspetto che il sindaco venga con le mani, con due dita e prenda il motorino. No, ma aspetta, fa una bella ruspa, scavate lì. Non vanno, guardate il che manca. In curva, di notte, al buio, attenzione, il guardrail serve. Non servono a niente. Guardate, sono consumati, ormai dalla vecchiaia avranno 40 anni, non servono a niente. Sono dopo guerra, queste cose, ma le vedi la ruggine che c'è? Qua c'è un sacchetti dalla monnetta. Guardate, la gente, senza riserva. Guardate, ma guardate lo schifo delle persone. Questa è un sacchettura, mamma mia. Ma io dico, se ne becco uno, ma gliela faccio mangiare, perché è qualcosa di indegno. Ah, ci siamo dimenticati, io lampioni non ne vedo. Non li inquadriamo perché non ci sono. Eh, logico, ci fossero. Oh, le, madonna ragazzi, ancora al contrario. All'un chilometro all'ora. Non si muove, no, non si muovelo. Non si mette al contrario. Ma io, ma sai cosa vuol dire? Che chi ha messo questo fratello? L'ha messo appositamente al contrario. Cioè, proprio l'ha fatto apposta. Qua, logicamente, ci sono i guardrail relativamente nuovi, diciamo, che hanno sette anni anche loro. Ma è l'unico tratto, come vedete, di dieci metri. Uno pensa, oh, hanno messo i guardrail, uno di notte dice, oh, finalmente guardrail. No, ma perché devi aspettare che passi la curva, madonna ragazzi. Perché appena passi la curva, il guardrail scompare di nuovo. La macchina viene qua con la ruota, per sbaglio, un po' di sotto. Ma io di notte, una volta, stavo camminando, per sbaglio ho messo il piede qua perché era buio, ma ho passato un brutto quarto d'ora, li stavo per cascarti sotto. E non è piacevole. Eh no. Questo video non tende a criticare l'operato, ma tende a far riflettere. E dopo cinque mesi, il comune sta facendo un sacco di marciapiedi, tutti diversi. Ovunque, tutti, un arlecchino sembra, una palla. Diversi, ne uno rosa a quadretti, l'altro grigio a triangoli. Questo livello che c'è, l'asfalto, proprio, chi l'ha fatto? Veramente, ha qualche rotella che non può. Una mente malata e contorta. E chi ha fatto questa strada, è strabico. C'è quello da fare, altro che marotta, altro che polifemo. Questo deve veramente avere un occhio che va a destra, e l'altro che va, anche guarda dentro l'interno, perché non può farlo vedere. Ma che schifo. Non c'è manco marciapiedi, guarda, fanno i marciapiedi, ma uno, per far passare la macchina, che deve fare? Deve stare qua, deve stare. Guarda, la macchina è passata, io rientro in strada, perché non c'è un marciapiedi. Ela è meia come enough che i rimini, Sei la macchina è passata, io rientro in strada, ea arrivi qui, chi, chi? Chi, 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 chi? Chi, chi, chi. Chi, 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 il èヤra, lui.